Per francamente io ho gli anticorpi, per il semplice motivo che bevo vino rosso, mezzo litro, un quarto, al giorno e alla sera, vino rosso e un po' di birra, i barri sono chiusi per rimanere pulito Foggia. Cosa dobbiamo consigliare Foggiani? Prima di tutto forza Foggia e poi dovete rimanere in casa per essere salvati voi stessi e tutte le famiglie, bevete il vino e vi salverete come un po' di birra, non briagarti, sosseggiando educatamente, piano piano. Quanta birra al giorno possiamo bere? Quanta birra? Io di solito ne bevevo una vendina, ora sono tutto chiuso e ne bevo quattro c...